Allora, Antonia, questo posto è il Regno Unito? Certo. Antonia, dove si trova? Londra. Si trova nel Regno Unito. Sì. Alessia, entriamo Big Bang? Certo, entriamolo. Bene, eccoci qui. Siamo a... No, siamo arrivati... Big Bang. C'è la campanella che suona. Certo. Antonia, ora possiamo suonare la campanella. Ok. Din-ton, din-ton, din-ton. È stato molto bello a visitare Big Bang. Din-ton, 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 din. Grazie. 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 Grazie.